cari amici benvenuti ben trovati anche oggi all'interno del magico mondo wawa wiewuwa in compagnia del mago alesgar bentrovati a tutti e ben collegati qui sulla pagina facebook di radio wow ho un'altra bella serata si apre in questa sera per entrare così nel magico mondo wawa wiewuwa ecco una mezz'oretta insieme come accade proprio dal lunedì al giovedì dalle 19 alle 19 e 30 qui sulla pagina facebook di radio wow staremo insieme fino all'arrivo del natale con queste dirette speciali ecco quindi seguiteci con i vostri genitori seguiteci anche inviandoci i vostri saluti dicendoci anche quello che fate mentre ci ascoltate con i vostri genitori con i vostri amici ma prima di iniziare nel vivo e di scoprire anche il campionato mondiale delle principesse disney perché se ci seguite dalla pagina facebook di radio wow sapete che abbiamo dato il via a questo campionato wow al campionato delle principesse disney e siamo già al girone f tra poco poi scopriremo le due principesse più votate del girone f perché si è concluso alle 19 il girone f poi daremo via anche al girone g che vedrà altre tre bellissime principesse che si sfideranno in questo campionato mondiale ecco per ogni girone ne passano sempre solo due ma dai andiamo andiamo subito perché ci aspetta una mezz'oretta bella bella intensa e allora partiamo immediatamente con la nostra sigla di apertura nel il magico mondo wow 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 ven collegati Grazie anche agli amici che ci sono sistemizzati per un istante sulla nostra pagina Facebook di Radio Wow. È ormai la seconda settimana che trasmettiamo in diretta dal Magico Mondo insieme al Mago Allesgar, che sono io, Mr. Mago, con il saggio alieno che tra qualche istante dovrebbe raggiungerci, l'ho sentito al cellulare, dovrebbe arrivare. Ecco, è in giro oggi. Ok, l'albero burlone che salutiamo, lui è sempre lì e non si schioda, assolutamente. Un saluto all'albero burlone, lo raggiungeremo tra poco per la barzelletta di chiusura e poi c'è naturalmente il Gufo Jubox, il maestro elegantissimo con l'orchestra delle cicale stonate. Oh, allora, tra poco scopriremo le due principesse più votate del girone F e intanto andiamo a ricapitolare e a vedere, ecco, perché si poteva votare per la principessa Aladin oppure per Lady Merion oppure per Trilly. Ecco, avete votato in tantissimi, davvero in tanti. E scopriremo tra poco le due principesse Disney più votate, quindi le due principesse che passeranno alla fase successiva. E poi daremo il via anche al girone G, ma insomma non voglio dirvi nient'altro, lo svegliamo tra poco, ecco, avremo anche la filastro... Quante storie da ascoltare, quanti giochi da imparare, con il mago alle scale, tutti i safari li saldano a finire con il mago alle scale. Grazie a tutti.